Beccati mentre stavano derubando una turista, scappano all'inseguimento dei poliziotti viaggiando contro mano, ma si schiantano e così finiscono in manette. Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato tre cittadini stranieri, due uomini e una donna di età compresa tra i 25 e i 36 anni, pluri pregiudicati per il reato di furto aggravato in concorso. I poliziotti in servizio in abiti civili durante un giro di perlustrazione nei pressi della stazione centrale hanno notato tre stranieri a bordo di un'auto che bazzicavano ripetutamente in via Fara e insospettiti li hanno pedinati. I pregiudicati sono scesi dall'auto e si sono avvicinati al tavolino di un ristorante dove una turista straniera era intenta a consumare e approfittando di un attimo di distrazione si sono impossessati della borsa appoggiata a terra. La mossa non è sfuggita ai poliziotti che hanno intimato loro l'alt, ma i soggetti, raggiunta l'auto, hanno tentato la fuga con una manovra azzardata, andando contromano e speronando una vettura che giungeva in direzione opposta, finendo incastrati e permettendo agli agenti di arrestarli. A bordo della macchina sono stati rinvenuti scalpelli, cacciaviti e altri arnesi da scasso, oltre ad un telefono e un paio di occhiali rubati pochi giorni prima a Cremona.